Sonia Burganelli ha assalito letteralmente Edoardo Tavassi e tutto il gruppo degli spartani perché hanno poco carattere, tranne l'impavido Tavassi che invece è uno stratega e comanda tutti facendo il generale, scarsa per Sammita anche per Giaele e Nicol in Corvaia, la quale afflitta dalle parole dell'opinionista vuole abbandonare la casa, me ne voglio andare ci sono troppe puntate brutte e come non darle torto